Salve, sono Giorgio Cecchini, System Integrator Civile e Militare, mi occupo di automazione e di strategie energetiche, socio fondatore del Conex Professional e da 15 anni Conex Partner. Oggi siamo stati qui a presentare un'esperienza per quanto riguarda l'automazione e building fatta nell'Aula Giulio Cesare di Roma. Abbiamo presentato tutto quello che potrebbe essere la sinergia con connessioni e con tutti gli afferenti dell'autovideo, che è l'altra famiglia con cui il Conex Professional sta cercando sinergie. Come si è dimostrato in sala, sia gli architetti che gli elettricisti, non avevano sentore di un protocollo che riunisce in una modalità aperta tutta la sinergia tra gli impianti, gli apparati e gli ambienti. Ho costituito all'Arbio di Ingegneria di Roma un mito tecnico scientifico che tratta proprio building, automation e processi industriali, dove il Conex è quota parte del linguaggio di campo più usato e che risolve in pochissimi passi il problema energetico e l'interfaccia uomo-macchina, che molti di loro in sala non avevano un sentore che fosse così semplice anche da parte applicativa. Il focus è stato mirato al reclutamento di Conex Professional, logicamente appartenenti a Conex Italia, che avesse comunque scopo una rivoluzione culturale, progettando e realizzando sistemi building intelligenti. Non è più possibile pensarla in maniera slegata, ma la sinergia e tutto quello che riguarda la condivisione, che è lo scopo fondante del Conex Professional, è al domino di tutti. Chiunque vuole avvicinarsi a questa tecnologia può, logicamente, tramite noi fare corsi di aggiornamento con modalità agevolata e avere tutto un sistema di assistenze che fino ad oggi non era stato fatto. Quindi assistenze dalla parte tecnica, scientifica, legale e per aiutare il cammino della riduzione tecnologica del Conex Professional. Ho focalizzato molto sul discorso dell'accanimento tecnologico che chi è Conex Partner e Conex Professional cerca sempre di dare una soluzione migliore al quesito migliore, non per vendere più prodotti, ma per vendere il prodotto che scientificamente è più adatto alla soluzione. Il Conex con migliaia di partner è la soluzione unica per quanto riguarda l'integrazione dei sistemi per dare anche l'off cost a una soluzione. E questo solo grazie al fatto che si parla di più di 11.000 presenze nel mondo. Il vantaggio è solo questo, la condivisione e la sinergia tra tutte le parti. Quindi il nostro impianto non è monomarca, il nostro impianto è una soluzione, che poi venga con 10 marche, 20 marche, non è un problema. Tutte parlano la stessa lingua, tutte hanno la stessa condivisione. Il risultato è quello del comfort per il cliente e risparmio in generale.